superanima 7 la scuola celeste di jane roberts capitolo 18 fuori dal corpo fuori dalla mente il viaggio di lidia dolcezza così la chiamavano i pazienti era la nuova infermiera e aveva appena preso servizio da tre giorni dolcezza diede a lidia le sue pillole dicendo ecco ora apriamo la bocca e inghiottiamo questa che poi ci sentiremo assai meglio la lingua carnosa di lidia si sporse diligentemente e le labbra screpolate si dischiusero ma con astuzia o con quale astuzia lidia fece l'atto di deglutire e trattenne invece la pillola in bocca quando l'infermiera si allontanò lei sputò la pillola e restò in attesa il vecchio cromwell nella sedia a rotelle accanto le rivolse un malizioso sguardo di approvazione ma rimase in silenzio quando era sotto sedativi lidia aveva più difficoltà del normale a concentrarsi ma ormai sapeva che poteva fare ciò che voleva se solo avesse tentato con sufficiente tenacia era stata fuori lei lo chiamava così già due volte si mise a borgottare irritata era annoiata a morte all'inferno chiuse gli occhi e immaginò di essere fuori dal corpo di stargli proprio accanto all'inizio fece ogni genere di errore sforzando i muscoli anziché usare quella particolare tensione interna che aveva scoperto appena il giorno prima un paio di volte imprecò sottovoce se il suo corpo si fosse mosso troppo magari sarebbe entrato qualche piantagrani avrebbe potuto pensare che lei cercasse di alzarsi dalla sedia a quel punto avrebbero aggiunto altre restrizioni o l'avrebbero legata ancora più stretta fuori 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 continuava a ripetersi lidia la vecchia lidia sta parlando di nuovo da sola commentò dolcezza passandole accanto povera vecchia lidia un corno pensò lidia con rabbia ed ecco che in quell'attimo stesso fu fuori in un lampo proprio in un lampo ebbe la sensazione che delle cinghie di gomma sfrecciassero oltre il limite e poi si spezzassero ed ecco fatto oh mio dio lidia osservò incredula il suo vecchio corpo ossuto e quella faccia scaltra con le palpebre chiuse che nascondeva così grandi segreti il suo corpo con quella stupida veste quelle ciabatte rosa e quello stupido fiocco da ragazzina che con tanta soddisfazione le avevano infilato tra i capelli ed ecco gli altri tutti quanti in quella squallida stanza con quei corpi mezzi vuoti sorretti in qualche modo lo shock di vedere il suo corpo la rese quasi isterica ma si trattenne al suono soffocato della sua prima folle risata non sapeva ancora quanto potesse restare fuori dal corpo o cosa fosse in grado di fare poteva ad esempio svignarsela e non tornare più e se lo avesse fatto cosa sarebbe successo ma guarda un po se non sei una furba disse una voce l'idia si girò di scatto il vecchio crumwell se ne stava un metro buono da terra girato di traverso e le sorrideva sbigottita addirittura spaventata l'idia portò rapidamente gli occhi alla sedia a rotelle di crumwell il corpo del vecchio era lì seduto placido grasso e ridicolo nel suo pigiama di flanella con i piedi infilati in calze scombinate pensavi di essere sola di avere tutto per te fece crumwell l'idia rimase senza fiato il vecchio fluttuando nell'aria quel modo sembrava una bambola che avesse perso l'equilibrio scendi giù a terra ordinò l'idia riacquistando la sua compostezza non voleva certo essere intimorita da quel vecchio sdentato torna giù immediatamente gli disse non mi sono ancora ben organizzato disse crumwell ma ne so più di te tu sei ancora nuova ti ho osservata sai io posso uscire da questo posto e tu non l'hai ancora capito l'idia lo guardò di sottecchi fuori da quale posto in realtà era quasi delusa prima si era sentita così splendidamente isolata sapere che anche crumwell poteva lasciare il corpo guastava quasi tutto devi solo venirmi dietro e fare quello che faccio io non nuocerà nessuno disse lui non nuocerà a nessuno lo corresse l'idia automaticamente un'ondata di costernazione la pervase oh crumwell perché tu gli chiese tra il divertimento e le lacrime vuoi perdere tutto il tuo tempo in ciance ribatte crumwell no no ma tu intendi dire che possiamo uscire da questo ospedale l'idia rimase sconcertata dall'urgenza della propria voce ma stava davvero parlando si toccò le labbra con stupore sì le labbra si stavano muovendo crumwell faceva dei balzi su e giù e la fissava tenendosi le mani sui grassi fianchi certo che funzionano le tue labbra funzionano le tue braccia funzionano tutto funziona vecchio tonto pazzoide smettila di ridermi dietro gridò lydia ma questo fece ridere crumwell ancora più forte scusa disse lui ma sei proprio impossibile eccoti qua scopri che anche io sono fuori dal corpo e tutto quello che sei capace di fare è correggermi gli sbagli e controllare se le labbra si muovono un po ma non importa dai seguimi lei ci provò ma aveva difficoltà a procedere voleva camminare per il corridoio con dignità ma continuava a sollevarsi in aria rimbalzando su e giù e a un certo punto si librò di traverso superarono dolcezza nell'atrio la luce del sole attraverso la finestra si riversò sui capelli dell'infermiera la luce era così strabiliante che per un attimo lydia dimenticò tutto il resto andiamo gridò crumwell voltandosi il vecchio entrò in una delle stanze per le visite che si aprivano sul corridoio quindi proseguì fino alla finestra e ci passò proprio attraverso ed eccolo rimbalzare come un pallone ma in aria a tre piani da terra devo essere fuori di testa non fuori dal corpo pensò lydia con una fitta di panico hanno ragione sono proprio rimbambita completamente matta la vista di crumwell che ciondolava là fuori la fece infuriare cosa diavolo c'è adesso disse crumwell e inspiegabilmente le fu di nuovo accanto lydia si raddrizzò per darsi un'aria dignitosa i vecchi non se ne vanno in giro per il cielo nel bel mezzo del pomeriggio esordì ti andrebbe di più se fossi un giovanotto ribatte lui risoluto cos'è che ti dà più fastidio sembrare buffa renderti ridicola così solo semplicemente spaventata lydia aveva ferito i sentimenti di crumwell mi dispiace mi dispiace sul serio e credo di essere spaventata proprio non ce la faccio ad uscire in quel modo passando attraverso la finestra tra i piani di altezza d'accordo torna nel tuo corpo disse crumwell credevo che avessi un po di fegato hanno detto che sei uscita completamente dai gangari ma immagino che non ti resti altro oramai se vuoi fa pure come fanno certi che sono terrorizzati di uscire anche quando sanno che possono farlo oltre a essere un vecchio tonto pazzoide c'è anche un tipo crudele disse lydia e tu sei una vecchia idiota testarda ribatte crumwell ridacchiando lydia guardò fuori dalla finestra e si mise a ponderare e se fosse caduta e fosse morta rimase colpita dalla comicità della situazione era tutto talmente strano che la parola morte non significava più un granché ma come poteva essere dal momento che il suo corpo era tutto ripiegato su se stesso nell'altra stanza mentre lei invece era qui e cosa diavolo aveva da perdere la sua età lydia rivolse a crumwell un sorriso quasi civettuolo potrei morire cercando di volare come del resto in qualunque altro modo sarebbe meglio piuttosto che trascinarsi fino alla morte disse dai andiamo gridò crumwell il vecchio si liberò in aria per circa un metro e passò attraverso la finestra il vetro sembrò come aprirsi per permettergli di passare anche se lydia si aspettava di sentirlo andare in frantumi da un momento all'altro a quel punto sempre tenendo d'occhio crumwell lydia si rizzò si avvicinò alla finestra tese in fuori le mani strinse gli occhi e passò oltre con sua grande incredulità si ritrovò a guardare il cortile sottostante sotto di lei erano seduti altri anziani in stadi meno avanzati di semilità quelli a cui veniva ancora concesso il privilegio di stare all'aperto come li aveva invidiati crumwell ce l'ho fatta ce l'ho fatta gridò lydia si sentiva libera e senza peso libera come l'aria i due si muovevano così veloci che lo stesso edificio divenne ben presto una macchia indistinta oh dio come vorrei essere di nuovo seduta alla mia scrivania e descrivere tutto questo pensò lydia e all'improvviso senza riuscire a ricordare alcun passaggio intermedio eccola nel suo studio un notice e una penna le stavano di fronte sul tavolo lydia tastò il legno con le dita tremanti era reale la scrivania certo che lo era ma davvero sembrava solida senza dubbio ma i suoi mobili erano stati venduti ne era consapevole eppure ogni oggetto nella stanza risaltava tanto era luminoso persino l'aria stessa sembrava risplendere sul tavolo della colazione c'era un mazzolino di violette i suoi fiori preferiti dunque era primavera certo un tratto dal giardino sottostante le giunse il profumo dei lillà lydia guardò se stessa là in basso con un misto di terrore ed esaltazione il suo corpo era quello di una donna giovane era proprio il suo con l'aspetto che aveva da giovane indossava un abito grazioso a fiori azzurri dimenticato da un pezzo cosa le stava accadendo eravamo in autunno non in primavera o comunque era appena finito l'autunno non sopporterò questa confusione disse lydia facendosi di un tratto furibonda sono una vecchia in una casa di riposo raggiunse in tono risoluto decisa ad aggrapparsi a qualunque realtà le fosse rimasta e così fu lydia aprì gli occhi era seduta sulla sedia a rotelle le ossa le dolevano la mano era indolenzita e serrata l'aprì la minuscola pillola di tranquillante scivolò fuori e rotolò sul pavimento l'infermiera l'avrebbe trovata lydia cercò disperatamente di raggiungerla con la pantofola per poterla spingere sotto la sua sedia come sempre quando cercava di muovere il corpo come si deve le braccia si lasciavano cadere goffamente come due pesci coperti di squame con le bocche al posto delle mani incantata lydia fece muovere le dita o quelle che parevano dita e guardò le bocche dei pesci che si aprivano c'era un tovagliolo posato lì appresso se il pesce avesse inghiottito il tovagliolo e se le mani di lydia erano le bocche dei pesci dunque le sue braccia avrebbero digerito il tovagliolo magnifico delizioso poteva percepire le mani come mani oppure come pesci la realtà era mutevole ma il suo sguardo cadde di nuovo sulla pillola e lydia si fece pensosa se si fossero accorti che non l'aveva presa la prossima gliela avrebbero ficcata giù in gola lo aveva visto fare agli altri e aveva già deciso che avrebbe dato un bel morso se avessero tentato di farlo a lei denti e morsi le fecero ricordare lo sdentato crommel che stava lì accanto e di colpo le tornò in mente l'intero episodio che aveva vissuto assieme a lui si girò quel tanto che glielo permettevano le cinghie della sedia per vedere di sfuggita la faccia del vecchio a quel punto accaddero due cose quasi anche se non del tutto contemporaneamente in primo luogo giunse dall'altro e la voce di dolcezza l'infermiera evidentemente si stava avvicinando gli occhi di lydia cadero ancora una volta sulla pillola che si trovava proprio in piena vista in secondo luogo crommel fece qualcosa che lei non riuscì bene ad afferrare lydia ebbe solo la fulminea strana sensazione che ci fosse un qualche tipo di comunicazione tra lui e maraia la cui sedia rotelle non era fissata alla parete come quella di lydia e del vecchio crommel quasi nello stesso istante senza che nulla fosse stato detto maraia spinse la sedia al centro della stanza la ruota della sua sedia rotelle andò a schiacciare la minuscola pillola sbriciolandola minutamente la 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 cantava maraia passando avanti indietro con le ruote sempre sullo stesso punto senza mai guardare in basso ormai la pillola era una polverina bianca sparsa così finemente da risultare invisibile la 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 faceva maraia con la lingua ciondolante a un certo punto guardò oltre e diede un'esplicita strizzatina d'occhio a lydia crommel se la rideva si se la rideva di gusto e lydia se ne accorse a quel punto maraia diede un colpo sulla sedia producendo un bel tonfo così tanto per provocare per bacco per bacco che bella canzone disse dolcezza entrando nella stanza lydia si sentì mancare il cuore ma l'infermiera non guardò nemmeno il pavimento maraia continuava a cantilenare la 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 e pareva proprio la vecchia signora di sempre dolcezza disse adesso spostiamoci vicino alla finestra lontano dal centro della stanza per far passare anche gli altri ecco fatto accenderò la televisione così la potrete guardare prima di cena a quel punto lasciò la stanza persa è disse crommel le sue parole erano biascicate come sempre aveva lo stesso vecchio bavaglio bianco legato attorno al collo nel caso salivasse troppo e si mettesse a sbavare le sue mani danzavano una attorno all'altra come dotate di vita propria ma i suoi occhi erano scaltri divertiti e in qualche modo schietti anche tu hai un bavaglio addosso lo sai disse il vecchio come leggendo i pensieri di lidia cosa cosa la voce di lidia era aspra faceva fatica a sentire le parole di crommel con quel programma televisivo mentre facevamo il nostro giretto in aria sei sparita sei stata trasportata da qualche parte le parole si susseguivano veloci eppure avevano senso fece bruscamente lidia ti sentiranno lidia diede una rapida occhiata carica di paura tutto attorno certe volte penso di essere mattita esclamò questo fece scoppiare dalle risate maraia e crommel maraia si portò accanto a lidia e disse con voce stridula vola vola come un uccellino cinguetta cinguetta passerottino la vecchia agitò le braccia in aria e fece una smorfia ridacchiando senza sosta poi esausta ricadde sulla sedia dolcezza entrò indaffarata dai non facciamo tanto chiasso chi è che fa tutto sto baccano stavolta c'era una leggera credine nella sua voce lidia la guardò pensando che almeno quell'infermiera era giovane assennata e si poteva contare su di lei in infermiera disse infuriata con se stessa spesso quando voleva davvero parlare non ci riusciva come se non bastasse l'infermiera non l'aveva neanche sentita lidia si sporse in fuori e stavolta il braccio destro tutto cascante restò adagiato e si rifiutò di muoversi eppure c'era un braccio che sporgeva in fuori lidia lo vide per un secondo e lo sentì e poi il braccio rientrò nel corpo e scomparve lidia era quasi in uno stato di shock dolcezza si voltò vide la sua faccia e disse cosa c'è lidia stai cercando di dire qualcosa cosa desideri lidia voleva dire lo so che può sembrare una follia ma giuro che me ne sono andata in giro volando questo pomeriggio e invece tutto ciò che riuscì a tirar fuori con voce stridula fu le persone volano certo che volano disse l'infermiera allegramente cromwell ebbe un attacco di tosse e cos'altro fanno chiese l'infermiera e se ne andò a prendergli dell'acqua tutti nella stanza guardavano lidia niente paura disse cromwell intendendo dire niente paura hanno capito niente disse maraia poi sorrise come una bambina di tre anni e stralunò gli occhi lidia si rianimò per un istante non hanno capito niente la corresse ma quando tentò di nuovo di parlare le sue parole uscirono prive di senso ma i suoi pensieri ce l'avevano un senso lidia capì molto chiaramente che anche se non riusciva a parlare in modo corretto era comunque capace di concentrarsi e mentre stava incominciando ad apprendere questi strani nuovi movimenti che avvenivano dentro di lei era sempre più consapevole di una certa tensione interna come se delle parole provenienti dall'esterno cercassero di prendere forma nella sua mente